Gela festeggia San Sebastiano, il programma stilato dal parroco della chiesa di Settevarine, Don Filippo Salerno, prevede da domenica 31 luglio la Santa Messa, la chiusura del Grest, l'apertura dei festeggiamenti. Appuntamento previsto per le 19. Una settimana di festa che culminerà sabato 6 agosto con la processione del simulacro. In piazza Faustina poi è prevista la benedizione con la reliquia del Santo. Quest'anno la festa di San Sebastiano assume un volto diverso in quanto abbiamo pensato anche come consiglio pastorale di voler dare una svolta un po' diversa degli anni precedenti. In che cosa consiste la novità? Consiste proprio dal fatto che il Santo Padre ci ha un po' introdotti quest'anno nell'anno della misericordia e quindi ci spinge a uscire. Questo ci ha fatto un po' riflettere dicendo che è giusto che noi come parrocchia cominciamo ad evangelizzare e andare porta a porta. Infatti quest'anno, proprio a cominciare già da ieri, abbiamo fatto il primo incontro nei quartieri dove passeremo per tutti i tre quartieri della nostra zona che sono i quartieri Marge, Albani Rocella e Sette Farini e a tutti e tre quartieri andremo porta a porta e porteremo questo messaggio che Gesù ci ama, quindi ci perdona e ci usa a misericordia. Questo è il messaggio fondamentale che vogliamo diffondere a tutta la parrocchia. Però l'altra cosa più bella è che quest'anno i festeggiamenti non saranno praticamente fatti tutti in parrocchia, ma in parte perché i tre giorni del Triduo noi li andremo a fare proprio nelle tre zone. Quindi il giorno 3, il giorno 4 e il giorno 5 noi andremo nei quartieri, quindi la statua di San Sebastiano passerà ed entrerà nei vari quartieri e si fermerà e lì faremo delle catechesi, le testimonianze, il rosario, il vespro e poi la Santa Messa a concludere. Quindi il 3 nella zona Margi, il 4 poi nella zona Albani Rocella, il 5 addirittura Poggio Blasco che è la parte finale della nostra parrocchia, la parte più lontana. E poi il giorno 6 che è sabato, quindi l'abbiamo anticipata al sabato a posto della domenica per dare la possibilità a tutti, in quanto in estate molta gente la domenica evade dai quartieri, abbiamo dato la possibilità di farlo il 6, questa festa, quest'anno faremo la messa, una catechesi e poi faremo una breve processione nel quartiere di Settefarine. Questa sarà la festa perché dico si è voluto fare questo? Proprio per dire a tutti che non sono né i movimenti che si fanno all'esterno, né le coreografie esterne che rendono bella una festa, ma soprattutto la parola che arriva nel cuore e soprattutto questa esperienza di Gesù che deve venire a illuminare la nostra vita e deve farci imitare la vita dei Santi.